In questo video vorrei farti vedere come puoi importare le posizioni delle fotocamere all'interno di Agisoft Metashape, Software Structure From Motion, per ad esempio importare delle posizioni molto più precise perché derivanti da un processo PPK, quindi post-processing di dati grezzi tirati fuori dal ricevitore satellitare di alta precisione a bordo del drone e accoppiati con quelli di una base che avevi a terra, oppure perché magari vuoi correggere un problema che ti si presenta magari nella registrazione dell'informazione di posizione da parte del dispositivo in volo del drone in questo caso e quindi vuoi provare a sistemare nel caso specifico un problema di altitudine. A me capita con i droni che utilizzo normalmente, nel caso specifico un drone DJI, DJI Phantom 4 Pro, che quando vado a importare dentro le fotografie, dentro Metashape, il valore di altitudine è completamente sballato rispetto al valore corretto, ma veramente tanto sballato, non ha senso rispetto al terreno, non ha senso rispetto a un dato GPS, c'è un conflitto tra il dato registrato dal GPS di bordo del drone e il dato dell'altimetro barometrico, insomma si crea un po' di confusione, tant'è che le quote che io, l'altitudine scusa, che io vedo quando vado dentro Metashape è completamente sballata. In questo modo ho la possibilità di esportare le informazioni delle camere, modificare l'altitudine e rimportare le informazioni delle camere e avere un'altitudine che è vagamente più verosimile rispetto a quello che è il dato reale. Attenzione che questo processo, quello che vediamo in questo video, non è un processo topografico rigoroso, quindi dimentichiamoci di tutto questo se stai facendo un progetto topografico, affinché tutto questo abbia un senso topograficamente, devi avere dei punti di controllo, devi utilizzare dei ground control point, devi utilizzare dei checkpoint, quindi devi fare il processo rigoroso portando avanti un processo dentro Metashape che passi attraverso l'allenamento, l'ottimizzazione dell'allenamento sulla base dei punti di controllo e dei punti di appoggio. Questo è soltanto un modo per, nel caso specifico della correzione dell'altitudine, per sistemare un dato totalmente sballato e provare a darti la possibilità di procedere all'interno di Metashape per tirare fuori un dato del tutto qualitativo, quindi non quantitativo, ma che sia molto più verosimile rispetto alla realtà. Entriamo dentro Metashape. Ho caricato all'interno di Metashape delle immagini, non sono tante, sono 23 immagini di una piccola area test che ho rilevato con un volo automatico utilizzando un drone DJI Phantom 4 Pro e come vedi nell'area, caricando le immagini, i centri di presa delle fotografie si vanno al posto giusto, quindi vedo la strisciata dove le fotografie sono state scattate. Ho scattato anche una fotografia a terra, questa è una cosa importante affinché possa correggere questo dato, o meglio il dato dell'altitudine. Correggerlo perché se guardo a sinistra nel pannello di georeferenzazione delle camere longitudine e latitudine sono ok, ma vedo che l'altitudine ha un valore completamente sballato. Meno 93 metri il punto scattato a terra che per inciso è questa immagine, gli altri sono meno 55, meno 56 eccetera eccetera. Questo volo è stato fatto a quota più o meno costante programmando un GSD tale per cui l'altezza drone terreno fosse intorno ai 30 metri. Le altre immagini sono queste, giusto per farti vedere di che cosa si tratta, sono poche, ma è chiaro che questo valore di altitudine è completamente sballato. Meno 92 metri non ha nessun senso né da un punto di vista di altezza AGL, quindi al suolo, né da un punto di vista di altezza assoluta, né da un punto di vista di altezza LSD, non ha completamente senso questo dato. Allora come si può fare per provare a modificare questi valori, perché se tu vai avanti con questo processo e vuoi avere un dato qualitativo, per quanto possa essere qualitativo il dato, però anche le informazioni di elevazione che tirerei fuori nella nuvola di punti, nel modello digitale di elevazione che ti porterai dentro un ortofoto, saranno completamente sballate, nel senso che quando vai a interrogare la quota di una serie di punti in un ortofoto ti troverai dei valori che sono molto molto sfalsati, che non hanno nessun senso. Sistemare questo valore quantomeno ti dà la possibilità di avere un dato, seppur qualitativo, un po' più sensato. Allora la cosa che bisognerebbe fare è avere la possibilità, o meglio fare, io lo faccio sempre, indipendentemente dal fatto di valutare questo errore o comunque di intervenire su questo errore, cosa che non faccio mai perché nel momento in cui utilizzi Ground Control Point questo problema scompare, però lo faccio sempre, è un'abitudine che ormai mi porto dietro ogni volta che faccio dei rilievi di questo tipo. Scattare una fotografia a terra in un punto di cui conosci l'altitudine, l'elevazione. Ora io ho scattato una fotografia in corrisponenza di questo target, è un caso particolare, questo target l'ho rilevato con un ricevitore satellitale per cui di questo target conosco molto bene le coordinate latitudine, longitudine e altezza elissoidica. Però potresti anche, visto che stiamo parlando di un dato qualitativo, andare su Google Earth e provare a vedere, di ritrovare il punto in cui ti sei messo, dove hai lasciato il drone a terra e scattato una fotografia per tirare fuori l'informazione di elevazione. In Google Earth, ora non ci vado per non dilungarmi troppo in questo video, se metti il flag sull'opzione di mostrare o comunque di attivare il rilievo tridimensionale, se ti muovi con la manina nell'area della finestra o comunque nella mappa che stai inquadrando in Google Earth, in basso a destra vedrai che c'è l'informazione di elevazione. Quel valore lo puoi prendere, è un dato qualitativo, però è un'indicazione sicuramente meglio di niente per poter fare poi le correzioni che adesso ti faccio vedere. Nel mio caso se vado su Google Earth e porto la manina in questa zona, mi dice il software che l'elevazione di questo piazzale, di questo parcheggio è 29 metri. Allora cosa faccio? Voglio correggere questo valore di altitudine in modo tale che tutti questi valori siano sensati in questo senso. Quindi la fotografia 184 abbia un'altitudine di 29 metri e di conseguenza tutte le altre abbiano un'altitudine corretta del delta che c'è tra meno 93 che è l'altitudine registrata in questo caso e 92 metri. Allora portiamo fuori, esportiamo le informazioni delle camere. File, Export, ho sbagliato, quindi vado qui, devo utilizzare questo pulsante Export Reference, quindi vado nel pannello di Reference, Export Reference, fammi vedere se c'è anche Export Reference, ma c'è anche qua infatti stavo andando nel posto giusto. Quindi Export, Export Reference, scelgo la posizione dove voglio salvare le immagini, lo chiamo Export Photo. Lui mi dà la possibilità di scegliere il tipo di file, txt, e mi dice ok che cosa vuoi esportare in termini di posizione, camere, marker, scale bar. Io voglio esportare l'informazione delle camere anche perché in questo momento ho solo questo. La cosa importante in questo momento è semplicemente utilizzare la location, quindi utilizzare la posizione, salvare la posizione anche se in realtà poi ci sono delle informazioni di orientamento che possono tornare bene. Comunque lasciamo tutto quanto invariato. Possiamo anche fare una Save Rotation e quindi lui ci tiene tutto quello che è l'informazione di rotazione. Ok. Lui dovrebbe aver esportato un file txt. Save Rotation che cosa vuol dire? Vuol dire che lui salva anche queste informazioni che sono legate a Yo, Pitch and Roll, quindi sono legate a l'assetto della camera durante il volo del drone in questo caso. Ora vado nella nella cartella dove dovrei aver salvato il file che è questo, Export Photo. L'ho messo in un altro schermo, adesso lo porto subito di qui. Ok. Vedi che lui mi dice, mi crea un file txt dove ci sono delle righe, delle righe di testo introduttive, poi c'è id dell'immagine, longitudine e latitudine, elevazione, z-altitude, Yo, Pitch and Roll e poi non ci sono altre informazioni per quanto riguarda gli errori. Allora questo file io intanto gli tolgo le prime due righe perché queste righe a me non interessano. Poi devo trattare questo file in qualche modo facendo sì che questo valore, il valore dell'elevazione venga corretto, ma devo ottenere tutto quanto perché quando importo poi all'interno di Metashape il file dell'immagine devo importare tutto quanto, quindi devo far sì che vengano aggiornati tutti i campi, quindi non posso importare soltanto il campo dell'elevazione corretta. Questo me lo copio, tutti questi dati me li copio, CTRL-C, vado in un foglio di calcolo e ce li incollo. Lui me li incolla per colonne, facciamo giusto un controllo che sia tutto ok, quindi io ho prima colonna dove c'è l'id della camera, la seconda colonna è la longitudine, la terza colonna è la latitudine, l'elevazione, Yo, Pitch and Roll. Ok? Cosa devo fare adesso? Devo correggere questo valore di elevazione sulla base dell'elevazione che ho chiesto a Google Earth di darmi, oppure elevazione che conosco e che voglio quindi sostituire in corrispondenza di questa immagine. Allora io ho detto che l'elevazione all'interno di Google Earth è un'elevazione di 29, in questo caso lui ho meno 92, quindi se gli chiedo 29 meno meno 92, questo è il delta che io devo aggiungere, 121,915, questo è il delta che io devo aggiungere a tutte queste immagini, all'elevazione di tutte queste immagini affinché abbiano un valore sensato. Allora quello che faccio è mi creo una nuova colonna qui dove praticamente prendo il dato della prima colonna, della colonna dell'elevazione meno il dato del delta, lo fisso con F4, questo vuol dire che portando giù, adesso non mi voglio dilungare su i fogli di calcolo, spero che tu sia abbastanza abituato a utilizzare questi strumenti, in questo modo io fisso questo valore e applicando questa formula su tutta questa colonna lui va a cambiare il valore corrispondente della riga ma non cambia il valore della riga che deve rimanere fisso, cioè questo il K1 rimane sempre fisso e viene sottratto a tutti i vari valori di queste colonne. Gli do ok e chiaramente io ho fatto un errore perché non devo togliere ma devo aggiungere, ok quindi io mi ritrovo in valore 29, se questo lo porto fino in fondo ecco che in questo caso ho delle quote che sono più verosimili, sono delle quote sensate rispetto a quello che è l'effettivo volo del drone che è stato fatto in campo. A questo punto io potrei prendere, puoi fare un po' come vuoi, puoi fare vari modi, nel senso che potresti prendere questa colonna, la copi, adesso se vuoi farti delle copie è sempre meglio avere delle copie nei vari passaggi di elaborazione, comunque state tasto destro, incolla speciale, solo valori, numeri, sostituisci i dati, a questo punto lui ha sostituito le informazioni di elevazione con quelle corrette rispetto alla quota che io conosco a terra. Se io riprendo questo file, questi campi, li porto dentro, un nuovo file di testo, ce li incollo, quello che trovo è un aggiornamento delle informazioni legate alle camere, dove quello che ha cambiato fondamentalmente è soltanto l'elevazione. Ora dovrebbe essere tutto quanto a posto, nel senso che questi sono separatori di campo, sono separatori di tabulazione per cui non sono spazi e quindi quando le importo in Metashape dovrebbe essere tutto a posto. Se questo io lo prendo, lo salvo come? Lo chiamo foto, corrette, qua posso mandare tutto quanto in barra, vado dentro Metashape, adesso reimporto le posizioni delle camere sulla base di questo file che ho corretto. Quindi invece di utilizzare questo pulsante export reference, utilizzo quello che c'è vicino che è import reference. Mi sposto, apro ancora un po' di più qui la finestra perché è un po' il cuore di tutto questo processo. Import reference, vado a scegliere il file che ho creato, foto corrette, lui mi apre questa finestra e mi dice vabbè intanto dimmi qual è il sistema di coordinate che mi stai dando e il sistema di coordinate non è ETRS o ETRS89 ma è VGS84. Non ho cambiato longitudine e latitudine, ho cambiato soltanto l'elevazione. Poi lui ti dice guarda che cosa mi stai dando in termini di dati che io leggo scritti nel file di testo che ho aperto. Allora il primo campo, la prima colonna è la label quindi l'ID dell'immagine, latitudine e longitudine, sono invertite queste, vedi? Stare attenti a queste cose altrimenti si fanno dei gran casini. Quindi cambi qui le colonne per fare uno swipe, per cambiare l'informazione legata alla prima riga e al campo che c'è sotto basta andare qui e segnalare a Metashape qual è la colonna specifica. La colonna di longitudine non è la 3 ma è la 2, la colonna di latitudine è la 3 e loro si scambiano quindi la longitudine è questo valore e la latitudine è questa. L'altitudine rimane questa. Aggiungiamo Yopi Chairroll che sono i dati di rotazione, volendo puoi mettere la spunta su accuracy se hai informazioni di questo tipo, in questo caso io non ho informazioni di accuracy sulle camere perché comunque non ho fatto nessun tipo di modifica e non sono dati precisi. In questa in questa in quest'area qui devi dire al software che cosa gli stai portando dentro in termini di georeferenziazione. Tutto quanto o meglio camere più marker o solo camere o solo marker. In questo caso io gli sto dando informazioni di georeferenziazione delle immagini delle camere per cui clicco su cameras. Do ok e lui cosa ha fatto? Ha aggiornato. Ha aggiornato fondamentalmente le informazioni di altitudine. Da un punto di vista di quello che vedo nello spazio 3D non è cambiato assolutamente niente perché prima non avevo nessun tipo di riferimento rispetto tra la posizione del centro di presa e un elemento di riferimento o un possibile confronto. Queste foto rimangono rigidamente in posizione corretta le une rispetto alle altre. La differenza è che qui vedo altitudine è cambiata e se inizio processo all'interno di Metashape di allineamento delle immagini, generazione della nuvola densa eccetera eccetera ora l'altitudine che viene utilizzata per dare le informazioni ai prodotti del processo fotogrammetrico è questa non è più quella sbagliata. Questo è un primo è un primo utilizzo dello strumento di importazione delle camere. Noi abbiamo anche fatto un'esportazione per correggere il dato e poi l'abbiamo importato. Credo che non sia l'utilizzo più rigoroso però è un utilizzo che si può fare e ti permette di correggere eventuali problemi davvero errori davvero grossolani che potresti incontrare legati alla tua strumentazione. Un altro utilizzo in realtà in questo caso molto più interessante secondo me anche più rigoroso rispetto a quello che poi tutto il processo fotogrammetrico è quello di importare all'interno di Metashape delle posizioni precise legate a un'elaborazione di dati grezzi del ricevitore satellitare a bordo del drone e di una base chiave via terra. Succede sta succedendo in questo momento aspetta che magari facciamo anche un break quindi ritorno un attimo su di me perché altrimenti vedi questa finestra e tutto rimane fermo. Facciamo anche un po' una variazione non l'ho mai fatto una cosa del genere durante i video. Capita spesso di vedere ormai sistemi di acquisizione immagini che siano droni o che siano anche camere terrestri che sono accopiate dai ricevitori ad alta a doppia frequenza quindi ad alta precisione alle 1 e alle 2. Questo permette di avere delle posizioni precise molto più precise rispetto a quelle che siano normalmente delle camere che vengono delle fotografie che vengono scattate durante un progetto di acquisizione fotogrammetrica quindi delle camere che si portano dentro Metashape. Ci sono due tipi di sistemi c'è un sistema che è un sistema RTK e quindi in tempo reale le immagini vengono la posizione delle immagini viene aggiornata e quindi quando scarichi le immagini la loro posizione è già precisa è già pronta e basta portare dentro che i metadati si portano dentro tutte queste informazioni altrimenti c'è la possibilità di fare un PPK fa post processing kinematiche questo vuol dire che prendi i dati registrati dal ricevitore del drone prendi i dati grezzi registrati da una base li accoppi fai un post processing facendo un confronto tra questi dati e estrai delle posizioni precise in post processing quindi dopo che sei rientrato dal campo. In questo caso hai bisogno di importare dentro il software le posizioni corrette perché se io porto dentro Metashape le camere così come sono state scattate poi dipende dal dispositivo che usi senza un dispositivo RTK ad esempio le camere si portano dentro l'informazione di posizione del gps tradizionale normale devo dargli un'informazione aggiuntiva o meglio un'informazione più precisa che deriva dalle camere elaborate quindi quello che vorrei fare adesso è lo posso fare anche con queste camere con queste immagini però vorrei ripartire dal adesso riparto un attimo con la condivisione dello schermo vorrei ripartire un attimo con le immagini del progetto quindi tolgo tutte le camere col dato originale quindi prendo le fotografie le porto dentro mi ritrovo valore di altitudine sballato io però di queste camere ho delle posizioni precise tra l'altro neanche in un sistema di riferimento neanche nel sistema di riferimento di default che lui prende come importazione delle immagini che è il WGS84 perché perché la cosa interessante di fare post processing delle immagini dei dati grezzi è che tu puoi trattare le coordinate di queste immagini come ti pare cioè puoi chiedere agli strumenti che utilizzi per fare post processing di avere in output delle coordinate in qualsiasi sistema di riferimento che tu voglia senza dover passare a attraverso WGS84 quote ellisoidiche ma ad esempio come in questo caso facendo un post processing delle posizioni delle camere e chiedendo al software di elaborazione in output un dato dove le informazioni sono nel roma 40 il gauss boaga le psg 30 03 in questo caso vedi che a ciascuna in fotografia è associata una coordinata nord una coordinata est e una quota ellisoidica vedi che si avvicinano un po' il valore di 30 29 che ho visto che ti avevo dato prima è chiaro che il 29 che ho preso prima è un valore di preso da google 31 e 165 un valore preso con il gps in campo capisci come capisce adesso perché prima ti ho detto non devi utilizzare questo processo ovvero la correzione della quota per fare topografia perché qui ci ballano due metri e due metri ti cambiano ti fanno passare dal giorno alla notte senza senza troppo senza troppi problemi questo file lo posso nel solito modo in cui ti ho fatto vedere prima importare quindi adesso non devo esportare più niente lo devo importare volevo capire dove fossero le camere eccole qua lo posso importare dentro metashape e quindi invece di prendere foto corrette tutto il processo che abbiamo visto prima vado a prendere questo file che foto 30 003 lo porto dentro e l'unica cosa a cui devo stare attento in questo caso è dire al software guarda che le camere che ti sto portando dentro non hanno un non sono già riferite nel sistema di riferimento vgs 34 sono già riferite in un altro sistema di riferimento quale beh in questo caso è montemario italizzano one e le psg 30 003 a questo caso a questo punto lui mi individua già il fatto che essendo sistema cartografico deve utilizzare est e nord rispetto a longitudine e latitudine sono invertite di nuovo perché lui ha invertito est nord rispetto a come sono scritte le coordinate nel file di testo che ho importato quindi niente di male basta soltanto dire che la colonna est è la colonna numero 3 e la colonna nord della colonna numero 2 l'altitudine è questa è la colonna numero 4 se avessi le posizioni di precisione legate a tutta l'elaborazione ppk potrei inserirle qua io adesso ce l'avevo le ho tolte per semplicità adesso non è importante metterle in questa parte se ho dell'informazione di rotazione posso metterle qui potrei teoricamente prendere l'informazione di rotazione del file originale portarle qua dentro in questo caso non ce le ho ho soltanto la posizione delle camere tolgo la spunta su informazione di rotazione di nuovo qui in items gli devo dire che quello che gli sto portando dentro sono delle camere quindi non sono marker ma sono camere gli do l'ok e lui mi ha portato dentro le posizioni delle camere dove ha rimasto invariato lo io perché quindi non è cambiato lo io all'interno della di questa di questa finestra per cui alla fine se non gli dai l'informazione di io lui prende l'informazione che aveva in origine per cui non è necessario portare dentro tutto quanto come ti ho fatto vedere prima la curasi di queste camere in realtà deve essere aggiustata lui non l'ha cambiata ma queste derivano da un processo ppk per cui la curasi di queste camere è sull'ordine di pochi centimetri 5 centimetri ma le camere adesso hanno una coordinata est nord e un'altitudine corretta per cui se io inizio adesso questo processo di elaborazione fotogrammetrica lancio l'elaborazione della nulla di punti dell'allineamento delle immagini tutto quello che deriva viene in parte inizialmente trainato da queste coordinate che sono coordinate precise e poi può procedere anzi deve procedere attraverso l'inserimento di punti di ground control point io consiglio l'inserimento di ground control point anche se hai delle camere molto precise perché poi magari entriamo nel dettaglio in qualche altro video e attraverso l'elaborazione della nuvola densa mesh texture di modello digitale di elevazione orto mosaico tutto quanto tutto questo però si appoggia in questo caso a delle coordinate delle camere che abbiamo aggiustato nel primo caso sistemato nel secondo caso dando un dato molto più preciso attraverso la possibilità di importare delle camere quindi un file di testo che contiene tutta l'informazione delle camere la cosa importante è che ci sia corrispondenza tra l'id del file l'id dell'immagine che hai portato dentro metashape e l'id della che è indicato nella prima colonna del file di testo se non c'è corrispondenza di questo il software va va in pappa nel senso che lui non sa a quale coordinate attribuire a quale immagine quindi il rischio è che o non trovi corrispondenza o peggio ancora se per qualche motivo magari in un dataset molto grande lui trova quella corrispondenza di immagini ma l'immagine non match da punto di vista reale quindi attribuisce le coordinate completamente sbagliate ad una fotografia tutto questo video di 25 minuti per farti vedere un comando che è quello di importazione delle immagini importazione del file di testo legato alle posizioni delle camere è interessante è abbastanza potente come come file come come comando la possibilità di andare a intervenire sui dati che hai all'interno di un progetto structure from motion ti dà veramente il controllo di quello che stai facendo e questo è uno strumento che ti permette di controllare il processo in questo caso il processo iniziale poi se riesci a controllare si riesce a sistemare la base tutto il resto si mette i piedi su qualcosa che è molto più solido rispetto a qualcosa che traballa un po spero che ti sia stato utile se ti va di collegarti con tradimetrica tradimetrica punto it se vuoi iscriverti al canale telegram telegram punto m e slash tradimetrica se invece pensi che valga la pena supportare tradimetrica tradimetrica punto it slash supporta e poi diventare un finanziatore di tradimetrica e dare il tuo contributo diventare un supporter e rendere questo progetto ancora più sostenibile io ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao da paolo cordeghini